dopo l'incontro della scorsa settimana con l'autrice manuela soldi che ci ha presentato il saggio su rosa genoni e la presenza importante anche della giornalista virginia ricci continua il nostro percorso all'insegna degli avamposti femminili delle donne visionarie questo percorso che abbiamo scelto per narratori d'europa numero 14 e stavolta ci trasferiamo in germania con brigitte ribe stasera parliamo di due libri di una trilogia della tedesca ribe brigitte ribe e in particolare ci soffermeremo poi su giorni felici si tratta di una trilogia dedicata a tre sorelle che rispettivamente richie silvi e florentin raccontano la ricostruzione dopo la guerra a berlino e quindi attraverso il mondo della moda nel primo libro con la richie e attraverso quello dei media radio festival del cinema editoria silvi il terzo libro invece deve ancora arrivare ci presentano le donne come avamposti femminili tra l'altro racconteremo quella che è la guerra fredda attraverso queste vicende e con tutti gli strascichi questa guerra fredda sta di nuovo riproponendo per esempio nel nel contrasto tra russa russia e ucraina ma vedremo anche le come le donne sono state le protagoniste della ricostruzione di berlino in quanto trumer frauen cioè donne delle macerie quindi ancora una volta avamposti donne visionarie sia nel campo della moda che nel campo dei media ma soprattutto nella ricostruzione nell'apertura verso la speranza questo libro giorni felici di brigitte ribe è il secondo della trilogia in italia aspettiamo ancora il terzo libro che chiuderà la trilogia che ha avuto grandissimo successo in germania